La Settimana Santa 2022 rappresenterà un momento forte non solo per la propria vita di fede, ma anche di ritorno alla possibilità piena di partecipazione ai riti. Non verranno meno le precauzioni, ma ogni fedele potrà essere presente alle celebrazioni che rimandano ad un'unica azione. E che nel nostro pregare ci sia il nostro percorso dalla croce alla risurrezione, sperimentare nelle liturgie di questi giorni il percorso luminoso che il Signore ci chiede di fare e che preghiamo sia anche il percorso per la nostra società verso una società nuova fondata sulla pace. Si inizia con la Domenica delle Palme che ricorda l'ingresso triunfale di Gesù in Gerusalemme salutato dai ramoscelli di Palma e di Olivo per poi introdursi al Triduo Pasquale. La Santa Messa Crismale sarà presieduta per la prima volta dal Vescovo De Vasini insieme al Presbiterio Diocesano, mercoledì in cattedrale. Giovedì santo il rito in cena domini sarà celebrato nella casa circondariale di Chiavari. Il Vescovo quest'anno non la farà in cattedrale, la farà in carcere nel pomeriggio proprio come segno di vicinanza ad un luogo di povertà e di fatica del nostro territorio. Venerdì santo il rito in passione domini in cattedrale sarà seguito dalla via Crucis. Sono autorizzate le processioni e là dove si può, secondo le norme stabilite anche dai diversi comuni, si potranno fare le via Crucis con il distanziamento e con tutte le norme dovute e potremo ancora una volta rimetterci in cammino insieme con Gesù. Sabato santo alle 21.30 la veglia pasquale con la benedizione del fuoco e il rinnovo delle promesse battesimali. Il giorno di Pasqua il pontificale in cattedrale sarà nel pomeriggio, mentre al mattino il Vescovo si reccherà in un altro luogo di sofferenza. L'ospedale di Lavagna dove domenica mattina di Pasqua celebrerà la Santa Messa. Il pomeriggio presiderà il pontificale con il rinnovo delle promesse battesimali già effettuato durante la veglia pasquale.